Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo attesissimo video, wow! Ho cambiato illuminazione così perché così vedete ancora di più la mia bruttezza e iniziamo subito. Questo è il primo video inerente al lungo percorso di musica elettronica che io ho già stilato mentre la prof stava spiegando, per cui se mi interroga sono Cazzi Amari, comunque ho stilato praticamente un programma che arriva fino a luglio di tutto un po' quello che è il percorso riguardante la musica elettronica e quindi un certo ambito della musica elettronica che sarà poi quello sempre delle sperimentazioni come ho già affermato praticamente nel video di presentazione di questo progetto. Ovviamente come è avvenuto per il film horror ad aprire il progetto ci sarà sempre una monografia. Ci sarà sempre una monografia perché sia con il film horror sia con l'elettronica io ho iniziato con dei grandi. Nel mondo dell'horror sicuramente da real gente, nel mondo dell'elettronica sicuramente i Daft Punk. Quindi mi sembrava veramente necessaria fare un'altra monografia, spero un po' più corta rispetto a quella di Argento. Però insomma volevo proprio iniziare con i Daft Punk perché i Daft Punk sono stati per me sempre quella porta nel magico mondo di quella che è l'elettronica e quindi credo che per parlare di elettronica bisogna necessariamente parlare di Daft Punk, bisogna necessariamente iniziare da Daft Punk. Non che i Daft Punk siano coloro che hanno originato l'elettronica, assolutamente no. L'elettronica nasce con i Kraftwerk, nasce con le sperimentazioni a Boston e a Chicago e nasce con tutt'altro intento. Però i Daft Punk, come vi dicevo, sono sicuramente quella porta, quello scrigno che si apre nel meraviglioso mondo che è quello della sperimentazione elettronica, che è quello di queste note che hanno composto nuove sinfonie e hanno arricchito il mondo della musica contemporanea, perché sicuramente, indubbiamente, con i Daft Punk non si apre solamente una nuova pagina, una nuova pagina dell'elettronica, si apre proprio una pagina della musica mondiale e come al solito il nuovo mi affascina e quindi nel lontano fine 2005, inizio 2006, un mio amico che si chiama Luca Lombardi mi ha fatto scoprire i Daft Punk. Ora questo mio amico praticamente fa il DJ ed è uno dei più bravi DJ di Bologna e ha praticamente avviato un progetto di musica elettronica insieme a un suo amico e ha fondato appunto i Forgotten Lords. Vi metto anche questa volta il link del loro progetto SoundCloud sotto la descrizione. Per cui vi stavo dicendo, sicuramente è necessario a partire da Daft Punk perché hanno veramente scritto una nuova pagina, hanno veramente interpretato il mondo sotto un'altra ottica e quindi in questa breve, tra virgolette, monografia io vi presenterò il mondo di due geni della musica elettronica e due robot che sono resi umani e hanno portato dal loro pianeta la loro sperimentazione. Allora, inizialmente prima di parlare di Daft Punk bisogna parlare dell'origine reale della musica elettronica quindi non mi riferisco tanto all'ala Kraftwerk ma all'ala invece di Boston e Chicago quindi la prima elettronica che è nata ed è nata come musica di protesta perché la maggior parte della musica contemporanea è nata come musica di protesta se si pensi per esempio alla rap e stessa sorta è toccata praticamente all'elettronica erano le proteste operaie, erano le proteste degli operai che hanno portato a queste nuove sperimentazioni sonore e all'inizio si basavano proprio su una serie di suoni che dovevano simulare il movimento di ingranaggi e quindi ricordare il mondo dell'industria e quindi l'elettronica è nata come un movimento di protesta e perché io sono partito da questo inizio e non tanto da quello dei Kraftwerk? per un semplice motivo, perché i Daft Punk partono secondo me da questo inizio dall'inizio di ingranaggi che si mettono in moto e vogliono rivoluzionare la situazione perché poi queste proteste avevano l'intento ovviamente di cambiare la situazione degli operai in quegli anni la situazione comunque di un certo ceto, un certo ceto povero che voleva emergere all'interno della società americana soprattutto nelle città industriali americane e la stessa cosa hanno fatto i Daft Punk ecco i Daft Punk volevano portare la rivoluzione, volevano portare il cambiamento e sono partiti proprio da questi ingranaggi che si muovono sono partiti proprio da queste sperimentazioni di protesta di protesta e queste sperimentazioni le hanno portate dallo spazio perché è ovvio che quando si parla di Daft Punk bisogna entrare nella loro metafora che è quella dei caschi ed è quella del loro vestito da robot i Daft Punk non vanno considerati come due esseri umani per quanto poi effettivamente lo sono ma io credo che vadano considerati come veramente due robot e io in tutta la mia monografia li considero come due robot come due alieni, come due extraterrestri che arrivano proprio dallo spazio quindi non robot terrestri, proprio robot che arrivano dalle sfere siderali dalle aree più misteriose dell'universo per portare questo cambiamento, per portare questa rivoluzione che era partita da Boston a Chicago quindi a mio parere parte da lì la sperimentazione di Daft Punk parte dal loro giungero sulla terra in mese di robot per portare delle innovazioni e il loro primo album risulta del 1997 ma la loro produzione ovviamente è attestata fin dal 1991 quindi praticamente dall'inizio degli anni 90 partiamo dal nome ovviamente Daft Punk vuol dire praticamente se non ero dall'inglese praticamente straccioni e questo era il nome che essi si sono dati secondo me ritorna un po' questa dimensione del voler cambiare del voler scalare l'ascensore sociale ecco Daft Punk vuol dire esattamente a bunch of Daft Punk un gruppetto di stupidi tappisti come praticamente sono stati definiti da una recensione io partirei proprio da questa recensione dai tappisti da praticamente quello che sono gli straccioni dal basso della società e dal basso della società che arriva il cambiamento e Daft Punk nonostante arrivino dallo spazio portano al cambiamento portano alla rivoluzione e nel 1997 nasce il loro primo album di successo che è Homework Homework che io ho trovato nelle autogrill francesi a soli 9 euro mentre in Italia costa 20 euro e questa è apro una parentesi polemica sui costi italiani perché poi si lamentano che la gente scarica piratamente ma questa è anche colpa di un sistema musicale basato su case discografiche che semplicemente se ne approfittano perché un CD il valore di questo CD materialmente parlando non metaforicamente parlando va a 10 euro cioè questi 10 euro la metà di questi 10 euro va a Daft Punk in Italia questo non funziona in Italia praticamente a Daft Punk vanno 1-2 euro gli altri 18 vanno a case di produzione alla CI vanno a etichette varie a tasse contro tasse secondo me è assolutamente ingiusto perché si priva l'artista del proprio lavoro e poi si aumenta ovviamente il fenomeno della pirateria digitale quindi io invito questo è proprio un invito che faccio a prendere in considerazione il valore che un CD deve veramente avere e soprattutto bisogna valutare il lavoro che l'artista ha fatto e non tanto la casa discografica la CIA e la Tassar in sé quindi bisogna ritrovare il vero valore della musica il vero valore dei dischi detto questo Homework datato 1997 è sicuramente un'evoluzione nel mondo della musica e le tracce ricordano proprio questo panorama americano questa Chicago di fine anni 80-90 piena di funk di funk scusatemi piena di suoni praticamente artificiali che derivano dalle industrie perché io dall'ascolto di questo brano è emerso molto l'industria è emesso molto una società in via di cambiamento sono emersi dal mio ascolto dei suoni molto artificiali molto artificiali che ricordavano proprio che il cambiamento doveva avvenire perché la società non può più rimanere ancorata al vecchio doveva giungere all'uomo e secondo me Homework vuol dire questo i Daft Punk hanno fatto come dice il titolo i compiti a casa hanno fatto i compiti a casa e dunque il loro compito è quello di portare l'innovazione in questo mondo in questo mondo che si trasforma pian piano in un mondo tecnologico ed è questa la grande innovazione dai suoni delle industrie dai suoni delle città trafficate passiamo ai suoni della robotica passiamo ai suoni dell'industria ai suoni completamente artificiali ed è questa la società del 2000 anticipata molti anni prima dagli stessi Daft Punk citando alcune tracce la numero 4 dell'album è Da Funk E Da Funk è sicuramente la traccia che più fa entrare nella metropoli moderna più fa entrare in quella che è la città piena di suoni piena di clacson di industrie di macchine in cui questo personaggio con una radio stile anni 80 passeggia e ci fa vedere musicalmente parlando quello che è il panorama di queste città degli anni degli inizi degli anni 90 dopodiché si va soprattutto con la traccia numero 7 che è Around the World successo poi interplanetario Daft Punk a esplorare quella che è la visione dell'intera terra dell'intera terra che sta cambiando e da qui in poi infatti i suoni cambiano abbiamo Rolling Scratching Rock and Roll Oh Yeah Alive e tante altre tanto per citarne alcune in cui si vede proprio il suono che cambia il suono che diviene più tecnologico il suono che diviene più robotico canzone a parte Merita Teachers che è la canzone numero 9 nella quale è una canzone meta letteraria quindi veramente una parentesi all'interno dell'album in quanto praticamente i Daft Punk sempre su suoni robotici illustrano attraverso una voce in vocoder quelli che sono stati i loro maestri da cui hanno tratto ispirazione perché come vi dicevo i Daft Punk non sono i primi ad aver inventato l'elettronica assolutamente no come Argento i Daft Punk sono gli innovatori della musica elettronica di una nuova musica elettronica che vuole portare il mondo dall'era 2.0 che è l'era della rivoluzione industriale l'era del capitalismo industriale eccetera l'era del mondo 3.0 l'era della robotica della tecnologia l'era in cui noi tutti stiamo vivendo nel bene e nel male i Daft Punk hanno compiuto l'evoluzione della musica elettronica che rappresenta però l'evoluzione di un mondo e quindi Homework è sicuramente l'album che fa entrare in questo mondo che si trasforma in questo mondo che diviene sempre più robotico in un mondo in cui la tecnologia è venuta è venuta ormai alla portata alla conoscenza di tutti e diviene uno strumento necessario per vivere ormai in questo mondo e con questo album i Daft Punk ce lo insegnano ce lo insegnano che il cambiamento ormai è alle porte e ormai è praticamente avvenuto sempre in quegli anni i Daft Punk iniziano i loro primi live e ovviamente hanno grandissimo successo soprattutto per il fatto che mascherino la loro identità inizialmente si mostrano senza maschere dopodiché dopo Homework i Daft Punk diventeranno veri e propri robot e qui abbiamo l'album praticamente che registra un loro live che è Alive 1997 che è un DJ set praticamente un mix delle canzoni di Homework e questo mix continua a rimarcare questa volontà di innovazione volontà di cambiamento dobbiamo passare questo che vogliono dire i Daft Punk dobbiamo passare dagli ingranaggi delle industrie agli ingranaggi delle navicelle spaziali e qui bisogna introdurre sicuramente il capolavoro a mio parere l'album più bello dei Daft Punk siamo nel 2001 e i Daft Punk fanno Discovery e non ve lo posso far vedere perché ho il vinile ed è talmente grande che praticamente comprerebbe il mio bel faccino per cui evito di farvelo vedere Discovery secondo me è l'album più bello più bello e più affascinante dei Daft Punk perché rappresenta l'apice di questo cambiamento l'apice in cui veramente si passa dal 2.0 al 3.0 perché rappresenta quello che ancora una volta una società che sta radicalmente cambiando Discovery l'idea di Discovery è molto semplice prendere dei pezzi direttamente dagli anni 70 dagli anni 80 su Wikipedia poi potete trovare ovviamente tutte le fonti in cui vi si cita i pezzi originali da cui i Daft Punk hanno praticamente estratto una componente bene i Daft Punk partono quindi da dei brani degli anni 70 anni 80 quindi della città 2.0 come io l'ho chiamata e la rimodellano la riformano una nuova forma una nuova forma che rivoluzionerà completamente il mondo dell'elettronica e sarà la forma robotica la forma che influenzerà tutta poi la dance floor e il mondo dell'elettronica degli anni 2000 e di fatto Discovery parte dagli anni 80 ma arriva non al 2000 proprio al 3000 guarda al futuro Discovery e sicuramente io non posso che citare quasi tutte le tracce perché quasi tutte le tracce poi hanno una loro storia One More Time un attimo ancora un attimo ancora di respiro prima del grande cambiamento e qui si torna a respirare proprio le atmosfere danzerecce degli anni 80 però imbevute di questo tessuto della modernità tessuto proprio della robotica della nuova industria dopodiché proprio la traccia numero due è aerodynamic e con aerodynamic entriamo praticamente nello spazio siderale nell'esplorare nuovi monti e questi nuovi mondi sono i mondi del futuro i mondi del futuro che ci aspettano e Discovery perché secondo me è il capolavoro di The Funk perché ha preso l'antico e l'ha completamente trasformato nel moderno ricordiamoci che senza il passato a mio parere non si va avanti la società 3.0 la società tecnologica in cui noi viviamo può essere tale perché esiste un passato e i The Funk ce lo dicono one more time ricordiamocelo il passato dobbiamo andare verso il futuro ma avendo le basi solide avendo un passato solido e consolidato dobbiamo anche avere conoscenza poi di questo passato ed è questo per me che fa di questo album capolavoro e poi ovviamente la sperimentazione sonora secondo me la sperimentazione sonora che The Funk fanno su questo album non l'hanno fatta neanche nell'ultimo che è l'album più venduto è l'album che ha vinto più premi in assoluto per me questo ha vinto un premio un solo premio quello dell'originalità quello del cambiamento vero e secondo me questo è il più grande premio che i The Funk potessero mai ricevere perché veramente queste sonorità se noi chiudessimo gli occhi mentre ascoltiamo questo album sentiremmo proprio le sonorità che ci trasportano nel mondo dell'universo nel mondo del futuro nel mondo delle astronavi degli alieni e di società avanzate e così si prosegue con la traccia numero 3 che è digital love è difatti l'amore digitale l'amore che è completamente trasformato in un amore del mondo 3.0 non vuol dire però attenzione i The Funk non ci vogliono dire che l'amore digitale sia l'amore ai tempi di Facebook insomma no l'amore digitale è un amore che ancora ha un contatto che ha dei grandi sentimenti digitale perché viene trasportato nel mondo del futuro viene trasportato nel mondo della innovazione ma il sentimento resta e quest'album ce lo vuole insegnare il mondo della tecnologia non è un mondo sterile non è un mondo freddo non è il mondo dei social network dei contatti che termina è il mondo in cui i contatti si aprono vi sono gli hyperlinks vi sono più contatti più possibilità di comunicazione e digital love lo insegna assolutamente l'amore digitale cioè l'amore nel futuro l'amore nell'innovazione ma sempre amore e sempre quel sentimento che fin dalla nascita dell'uomo ha contraddistinto il nostro genere e questo noi non dobbiamo assolutamente dimenticarceli e questo è l'inizio di un affascinante viaggio che Discovery ci vuole portare a conoscere perché Discovery in inglese vuol dire proprio ecco la scoperta la novità la scoperta di questi nuovi mondi e con la tecnologia noi non dobbiamo venire fuori dalle relazioni non dobbiamo essere freddi ecco vivere in un mondo tecnologico di cui noi non possiamo più farne a meno vuol dire vivere vivere in un mondo di connessioni in un mondo in cui siamo circondati da altri uomini in un mondo in cui viene il contatto con gli altri il contatto col diverso e noi questo contatto dobbiamo impararlo e dobbiamo impararlo anche praticamente ad amare benissimo adesso io non vi posso fare le analisi tutte le canzoni ma io vi cito praticamente quelle che sono rimaste più significative nella mia mente e per poter parlare delle altre canzoni devo citarvi sicuramente un film il film di cui Discovery è la colonna sonora sì perché sempre in questi anni nasce quella che è Interstella 5555 che narra proprio di una storia di alieni che vengono trasportati nel nostro mondo vengono umanizzati praticamente gli viene cambiato il colore della pelle gli vengono chiamate e cambiate proprio la fissionomia perché perché erano una delle band più famose di questo pianeta e riproducevano praticamente la canzone One More Time che era diventato un successo interplanetario un discografico terrestre se ne era accorto discografico che aveva sfruttato i più grandi talenti del mondo da Beethoven in poi e quindi se ne approfitta e specula sulla bravura di questi artisti che ovviamente si trovano catapultati in un mondo che non è loro e imparano il contatto con il diverso alla fine di questo film che non rivelerò con quel film si trova benissimo su Youtube eccolo qui comunque compratelo in testella 5555 alla fine del film gli eleni impareranno delle nuove realtà impareranno a fidarsi di alcuni personaggi e impareranno a non fidarsi di altri ed è questo lo scopo il contatto con il diverso è il contatto con un mondo che si deve trasformare perché l'innovazione deve porre a fine a questi personaggi che sfruttano l'artista che sfruttano il lavoro di altri non parlo solo dell'artista parlo anche ovviamente di sfruttamento minerale di sfruttamento degli schiavi eccetera è questo che i Dark Punk ci vogliono far capire con questa metafora del viaggio il mondo sta cambiando e deve cambiare assolutamente il meglio deve cambiare in modo che nessuno schiavizzi un altro questi alieni se volevano vivere sulla terra ci devono venire volontariamente non devono essere costretti da nessuno e il contatto col diverso deve avvenire pacificamente e queste poi sono tutte le altre canzoni da The Better Fast Stronger Crash and Dolls Night Vision Super Hero Side Life Something About Us eccetera eccetera che rappresentano questo contatto con il diverso guardate bellissimo questo titolo Something About Us qualcosa riguardo a noi qualcosa su di noi perché nel mondo della tecnologia noi dobbiamo imparare a esprimerci a dire qualcosa di noi agli altri dobbiamo esprimere la nostra essenza agli altri la traccia dopo si intitola Voyager Viaggio e difatti tutto l'album è un viaggio un viaggio sì di sonorità ma un viaggio proprio nel cambiamento nel futuro in un mondo che deve essere assolutamente migliore che non deve schiavizzare nessuno che deve essere un mondo del digital home dell'amore digitale cioè di quell'amore puro vero in un mondo cambiato diverso migliore e questo secondo me è il significato di tutto Discovery ed è il significato che va oltre la musica perché secondo me è Draft Punk One oltre la musica è questo che noi dobbiamo assolutamente assolutamente ricordarci e qui poi ci sono tutti gli altri brani Verdi Squash o Circuit Face to Face Too Long e il viaggio si conclude proprio con Chulong troppo lungo troppo lungo quanto lungo sì perché proprio il viaggio è veramente lungo e soprattutto il film ce l'insegna il viaggio esprime un viaggio nella vita un viaggio nel cambiamento di una vita non può essere breve tutti i cambiamenti non possono avvenire in breve altrimenti sarebbero delle rivoluzioni e lì la storia ci insegna parecchio il cambiamento che vogliono i Daft Punk non è una rivoluzione in peggio ma è una rivoluzione lenta progressiva una rivoluzione mirata a creare un mondo in cui l'amore trionfi in cui i veri valori trionfano e questo è l'album che sicuramente insegna è l'album che sicuramente insegna ad apprezzare il diverso ad apprezzare un mondo che deve cambiare meglio che deve cambiare verso direzioni diverse direzioni che vanno oltre e quindi che vogliono superare i pregiudizi e questo era Discovery ma era anche il film film che ha una particolarità bellissima a parte che il regista ha fatto Capitan Harlock quello serio non è il film che è uscito qualche mese fa che mi hanno detto che è una vera porcheria no questo film è completamente muto è un film che lascia parlare la musica e questa è un'idea sia del regista che dei Daft Punk e quando vi dico che i Daft Punk hanno innovato l'elettronica qui hanno lasciato parlare la musica la musica la vera potenza del mondo la musica che porta armonia e questo non l'avevano capito solo i Daft Punk torniamo molto indietro l'aveva capito Vasili Kandinsky l'aveva capito tutta l'arte astratta l'aveva capito Klimt l'avevano capito tanti artisti fra cui anche ecco gli artisti più contemporanei che noi abbiamo che sono i Daft Punk che sono i Daft Punk la musica porta armonia ed è l'armonia che deve cambiare il mondo verso questo amore digitale e questo era Discovery dopo Discovery oddio scusatemi mi stavano cadendo tutti i dischi per carità che poi faccio un patatrack dopo Discovery ecco che abbiamo praticamente un altro album diciamo molto particolare che è Daft Club l'anno è precisamente il 2003 Daft Club è un album qui però bisogna tornare a parlarne musicalmente non si possono fare questi voli pindarici bellissimi perché è un album di remix ed è l'unico album di remix di cui io vi parlerò perché sotto il nome di Daft Punk sono usciti tanti album di remix tra cui i remix di Tron Legacy i remix di Human After All eccetera ma quello che interessa a me è Daft Club perché è stato il mio secondo album dei Daft Punk che io ho ascoltato praticamente in seconda media quindi ormai sono passati sono passati secoli ed è un album che ha un titolo particolare Daft Club perché entrare nel Daft Club vuol dire entrare in questa sperimentazione sonora volta al moderno e tutte le canzoni si parte con un overture scritta dai Daft Punk overture che vuole ricordare tutte le aperture dei grandi compositori di musica classica perché Daft Club è un'opera in realtà non è solo un disco di remix è proprio un'opera che vuole che vuole aprirci al mondo dei Daft Punk queste sperimentazioni robotiche sonore dei Daft Punk e di fatti all'interno di questo album noi non troviamo solamente dei remix propriamente detti ma troviamo delle sperimentazioni delle sperimentazioni perché già i Daft Punk hanno sperimentato ma la sperimentazione apre le porte ad altre sperimentazioni e qui vi sono i Neptunes e gli Slam Village che sperimentano sulle musiche di Daft Punk sulle musiche robotiche di Daft Punk il rap l'hip hop che è un altro genere musicale che ha completamente innovato innovato la musica poi ci sono sicuramente Laidback Luke e Bassman Jax che sono due big della musica elettronica che hanno cambiato dall'interno il suono dei Daft Punk creandone una canzone completamente nuova e questi non sono dei remix queste sono delle canzoni completamente nuove che ci vogliono praticamente insegnare ci vogliono praticamente insegnare che dal moderno nasce veramente tanto non bisogna disperare il moderno perché dal moderno dalla sperimentazione spesso se fatta come la fanno i Daft Punk se fatta con passione nasce veramente l'armonia nasce il concetto della creazione perché Ledwell Luke Bassman Jax e tanti altri hanno creato creato a partire dal moderno dalla sperimentazione di Daft Punk ultimo accenno da Daft Club è One More Time Romantoni's Unplugged l'ultima traccia praticamente la penultima sulle traccia di Daft Club questo è praticamente una traccia acustica ed è One More Time cantata da Romantoni che è il vocalist della canzone originale di Discovery Romantoni è morto praticamente un anno fa e quindi è doveroso il ricordo di questo grande artista che ha cambiato con questa piccola canzone ovviamente ne ha fatte tante altre ma secondo me One More Time ha segnato la produzione di questo artista perché lo ha fatto immergere in questo nuovo mondo dell'esperimentazione lo ha fatto immergere nel mondo del 3.0 come io oso perché è un mio usare chiamarlo e io credo che sia doveroso applaudirlo anche se in silenzio e ricordarlo con le parole questo grande artista che con la musica insieme a Death Punk ci ha fatto capire che l'armonia in questo mondo disarmonizzante esiste ancora e questo era Daft Club che io ho uno dei pochi appunto l'unico album di remix di cui parlerò in questa monografia ed è un album che io vi consiglio assolutamente perché è proprio l'album che musicalmente vuol dire tanto vuol dire che dalla sperimentazione nasce una nuova creazione dalla sperimentazione nasce quella armonia di cui i Death Punk volevano insegnarci 2005 e questo è un anno fondamentale i Death Punk dopo il grande successo decidono in una settimana di fare un album e questo album è Human After All Umani Dopotutto è un album che segna un distacco netto sia da Death Club da Discovery e c'è un po' un ritorno ad Homework i suoni sembrano tornare ad Homework ci sono quei suoni molto più stridenti ci sono i suoni molto più cupi proprio io lo definirei cupi da pelle d'oca e di questo album io dovrei parlare più come un album horror che come un album di musica elettronica perché è veramente un album horror questo Human After All innanzitutto questo album ha due significati il primo è quello che dice il titolo i Daft Punk sono uomini dopo tutto è vero che molti li considerano robot io avevo detto fino all'inizio che li prenderò in considerazione come robot venuti dallo spazio per innovare portare insomma dei grandi cambiamenti in questo modo però loro sono degli uomini e con questo ci fanno capire che anche loro sbagliano che anche loro sono umani che quindi non sono perfetti e quindi nessuno è perfetto di fatto questo album non è perfetto ma volutamente non è perfetto perché Daft Punk la perfezione l'hanno raggiunto più volte questo album non è perfetto ma non è perfetto perché Daft Punk vogliono farci capire che la perfezione non esiste nessuno deve pensare di essere un super cervellone un super intelligentone un super computer da poter decidere per gli altri da poter essere più intelligente degli altri e da essere perfetto perché la perfezione non esiste il secondo significato è che per me è più profondo in quest'album è quello dei toni cupi dei toni horrorifici perché in questo album sicuramente molti di voi conosceranno alcune canzoni come sono parte di Human Art and All ma anche The Prime Time of Your Life The Prime Time of Your Life scusatemi e Technologic e inoltre anche la traccia Television Rose the Nation questo è un album che va veramente analizzato traccia per traccia perché è un percorso è un album in cui tutte le tracce praticamente seguono lo stesso input hanno la stessa origine gli stessi suoni stredenti gli stessi suoni che rimandano un mondo cupo che il mondo degli uomini il mondo in cui le cose non sono come i Daft Punk vorrebbero credo che questo album si potrebbe chiamare anche l'album della disillusione come molti artisti romantici si sono disillusi le idee della rivoluzione francese e quei Daft Punk si sono disillusi del fatto che gli uomini un po' non cambieranno mai che questo 3.0 non è il mondo che Daft Punk hanno sperato in Discovery che hanno sperato nelle opere precedenti difatti suoni stredenti ricordano molto il mondo umano e poi nel termo of your life più che la canzone dovete guardare il video un video inquietantissimo in cui vi è una ragazza che non accetta se stessa che non accetta se stessa e alla fine si squarta viva pur di togliersi questa pelle che lei sente come un peso e questa è la seconda canzone dell'album The Front Time of Your Life è un tema pesante secondo me è agghiacciantissimo anche il filmato credo sia uno dei video musicali più agghiaccianti che io abbia mai visto è tratto un tema forte della non accettazione nel mondo il diverso non è accettato e per questo paro di album della disillusione perché i rap punk l'hanno capito purtroppo che il diverso spesso non è accettato e spesso non solo non è accettato dalla società ma spesso neanche colui che noi riteniamo impropriamente diverso si accetta e la fine interversale intesa come mondo e questo è un dato di fatto che i love punk hanno capito la televisione domina il mondo non è possibile creare un mondo 3.0 un mondo in cui vi è l'armonia un mondo in cui si passa al futuro quando ancora siamo controllati dai mass media mass media che continuano a farci propaganda e continuano a portare avanti quel capitalismo estremo che il mondo occidentale praticamente ci ha ci ha imposto e questa è una canzone di forte propaganda è una canzone politica e è la canzone più politica dell'huff punk loro vi dicono attenzione non non guardate la televisione ma prestate attenzione che la televisione non debba diventare un po' quel grande fratello di cui George Orwell parlava in 1984 attenzione perché se noi vogliamo tornare all'armonia vogliamo arrivare all'armonia vogliamo arrivare al futuro la televisione deve essere un mezzo per comunicare le nostre emozioni per comunicare i nostri pensieri non per farci indietro e poi si finisce con due canzoni che sono Technologic ed Emotion ma io parlerò di Technologic perché a parte la canzone una delle più conosciute è The Daft Punk ma è sicuramente la canzone che è questa più inquietante e anche qui rimando al video perché non so se l'avete capito tutta la produzione di The Daft Punk non è solo musica ma la musica parla parla per immagini e quindi correlati agli album di The Daft Punk ci sono i video e anche Human Art però la verrà poi un supporto video che uscirà praticamente nel 2005 nella collezione music che praticamente è una raccolta di brani dal 1993 al 2005 in cui vi è il supporto video della maggior parte di questi brani e di fatti il supporto video aiuta aiuta tantissimo a entrare in questa musica in questa musica che proprio crea le immagini e in Tecnologic si vede un robotino malefico perché il personaggio centrale è proprio questo robot malefico e i Daft Punk ci vogliono avvisare un'altra volta a dire attenzione alla tecnologia la tecnologia è essenziale per il futuro per trasformarci eccetera ma deve essere una tecnologia il cui uso è consapevole altrimenti si rischia di avere il robot malefico quindi di avere l'uomo 2.0 propriamente detto di avere un uomo che è ancora più cordele perché la tecnologia diventa lo strumento un'arma di massa dobbiamo stare attenti a non far divenire la tecnologia un'arma di massa e questo era Human After All un album che musicalmente è stridente un album che dura praticamente meno di un'ora non faccio il conto ma insomma dura meno di un'ora sono dieci canzoni tutte con la stessa tonalità tutte con la stessa cupezza tutti tutte con la stessa praticamente tonalità di suoni è quello è un viaggio all'interno della disillusione del mondo che purtroppo è il mondo in cui stiamo vivendo ed Aft Punk vorrebbero invece un altro mondo il mondo dell'innovazione l'innovazione in positivo un'innovazione verso quella che è l'armonia verso un po' quella che è la nuova età dell'oro per l'uomo quest'album è fortemente politico secondo me e ancora una volta la potenza della musica che evoca queste immagini ma non sono immagini armonie sono immagini forti immagini che ci vogliono fare il letter ed è questo che un artista deve fare non deve fare musica per soldi questo è completamente sbagliato e qui mi riferisco a tutti quei dj parliamo del mondo elettronica che fanno musica per guadagnarci vedi David Guetta che io lo immergerei nell'ammoniaco così magari gli viene un lavaggio del cervello questi qui li mettete nelle discoteche e truzze vaffanculo questi non sono artisti questa è gente che vuole guadagnarci dei soldi l'artista è uno che esprime un concetto l'artista è uno che vuole esprimere e portare avanti le proprie idee io credo che al pari e da punk ci possa essere moby per me è un altro artista che ha portato avanti le sue idee e la sua riflessione del mondo soprattutto con il nuovo album che pochi hanno considerato che appunto mette in luce le stesse un po' tematiche di human after all il nuovo album che si chiama innocence di moby e che rappresenta proprio questa serie di personaggi di uomini con le masche perché l'uomo moderno è costretto a indossare questa maschera è costretto a essere servo dalla televisione e essere servo dalla tecnologia e sia da punk che i mobi ci dicono è sbagliato dobbiamo andare oltre e secondo me è questo che gli artisti devono fare che gli artisti devono comprare non il soldo il soldo è mondo materialistico è mondo del capitalismo non voglio fare il comunista marxista però ecco l'artista deve esprimere un'idea non deve esprimere soldi se io voglio vedere uno che esprime soldi vado a sentire una conferenza di economia non mi ascolto un album secondo me un album deve riflettere l'idea di un artista dopo Human After All vi avevo già parlato della raccolta music quindi passiamo oltre dopo la raccolta music vi è un film che è stato polarizzato anche al festival del Cannes che è Electroma Electroma che riprende un po' i temi di Human After All questa volta è un film girato interamente da Dark Punk però la colonna sonora quasi non esiste la colonna sonora praticamente composta da solo 4-5 canzoni in un'ora di film non sono di Dark Punk sono di arti artisti e ancora una volta domina il silenzio ma perché domina il silenzio? perché i Dark Punk si sono disillusi e vivono in questo mondo in cui la diversità non viene accettata la storia è molto semplice parla di loro due che sono dei robot e che vogliono trasformarsi in uomini perché la gente non li accetta la gente non accetta il diverso e anche qui come in The Prime Time of Real Life di Human After All la conclusione è esattamente la stessa la morte si bruciano vivi l'esperimento finisce con loro due che bruciano vivi e ancora una volta è un'immagine forte pesante da sopportare stredente come i suoni di Human After All che ci vuole dire proprio con questo silenzio volutamente provocante qui sta il messaggio politico di Dark Punk attenzione accettiamo il diverso andiamo oltre i pregiudizi ed Electroma è un film poco conosciuto ma che veramente da vedere in silenzio e da farci una profonda riflessione sulla società che stiamo diventando e su come invece dovremmo diventare sul modello di quello che i Dark Punk ci hanno detto in discorso la monografia termina con l'ultima opera dei Dark Punk no scusatemi la penultima opera ne stavo scordando una nel 2007 pensavate che finisse prima la monografia invece vi tengo qui incollati ancora ancora un'altra mezz'oretta no no un po' meno dai un'altra oretta nel 2007 esce praticamente Alive 2007 dieci anni dopo Alive 1997 e come suo predecessore è un mix di quelle che sono state le canzoni sia di Homework che di Discovery che di Human After All ed è un mix importante nel senso tu perché hai vinto credo due grammi awards non so quanti no tre grammi awards mi pare un sacco di nomination e ma perché è importante quest'album al di là della bravura tecnica di Dark Punk perché quest'album è quello in cui i Dark Punk dimostrano una bravura tecnica eccelsa nel mixaggio dei pezzi veramente una bravura eccelsa è un viaggio di quasi due ore in cui anche se loro stanno praticamente mixando tre album diversi non ci ne accorgiamo perché quest'album è fondamentale nella produzione di Dark Punk perché introduce quella che è il simbolo della piramide e io c'ho la deluxe edition e voi no beh questo è il simbolo della piramide che non è il Cocoricò ma bensì il tour del Dark Punk il tour del Dark Punk che è un tour visivo e ancora una volta come vi dicevo portano la musica a creare le immagini e qui le immagini sono rappresentanti in live non è un film un concerto perché un concerto deve essere espressione di quello che la musica è e la musica nel Dark Punk è immagine e proprio visionarietà tanto ormai questo termine l'avrò usato almeno una cinquantina di volte quindi se non esiste lo inventano solo per me questo termine i Dark Punk inventano proprio la visionarietà in questo album e lo potete vedere ogni canzone è correlata a una luce a un colore diverso e questo album non è importante solo per il mixaggio che a mio livello è perfetto cioè non c'è una pecca non c'è veramente una pecca ma per la luce per la componente visiva che ancora una volta aiuta i Dark Punk nella loro opera nella loro opera proprio politica perché in fondo è un'opera anche politica quella di Dark Punk quella di portare alla scoperta di un nuovo mondo che sia migliore di quello che noi viviamo un mondo fatto di suoni che creano immagini che creano armonia in un perfetto climax in cui magari noi potessimo vivere l'ultimo album finalmente direte voi nel 2013 questo lo conoscono tutti persino i muori di questa casa ed è Random Access Memory RAM Random Access Memories è l'album della maturità se Human After All è stato l'album della disillusione se Homework è stato l'album della scoperta si discove è stato l'album del viaggio Random Access Memories è sicuramente l'album della maturità è dell'album che ha ricevuto più premi 5 grammi awards ha ricevuto una critica veramente tra le più positive e ha venduto è il disco di Dark Punk che ha venduto di più ed è anche uno dei dischi proprio più venduti al mondo e quindi è un disco che commercialmente ha venduto ma io me ne sbatto dei valori commerciali e vi parlo come al solito come al solito dei valori profondi che questo album ha veramente ha veramente segnato nella mia vita è un album pieno di collaborazioni e i Dark Punk tornano un po' a quel concetto di Discovery c'è uno stile anni 80 quindi la ripresa di canzoni anche qui funk jet a volte delle ritmiche jazz a volte anche delle ritmiche di un certo tipo di rock però essenzialmente molto più funk e creano questo album fatto di collaborazioni ancora una volta collaborazioni che indicano che l'umanità collabora l'umanità non è guerra oppressione l'umanità è collaborazione e qui i Dark Punk ce le insegnano collaborazioni peraltro veramente fantastiche perché c'è Giorgio Moroder che è uno dei più grandi ecco personaggi dance della scena italiana Pharrell Williams via Julian Casablanca Neil Rogers uno dei più grandi artisti funk tuttora esistenti Panda Bear e tantissimi e tantissimi altri ma al di là dei nomi oltre il nome c'è proprio il valore della collaborazione che è necessario la musica spesso non si fa da soli spesso la musica è una condivisione di idee la musica si deve fare insieme non deve essere il lavoro egocentrico o un'esperienza solipsistica deve essere anche e questi Dark Punk ci insegnano il lavoro di tanti il lavoro dell'insieme che vuole esprimere un progetto collettivo la musica è anche la musica è anche questo e difatti la prima canzone Give Life Back to Music quindi direi che ecco portare la vita indietro alla musica e ancora una volta i Daft Punk che ci vogliono insegnare un altro concetto importante la vita deve essere portata alla musica perché la musica così come tutta l'arte porta all'armonia quindi torniamo alla musica lasciamo parlare la musica stiamo in silenzio ed ascoltiamo la musica parla per noi la musica ci insegna questo nuovo mondo canzone 2 The Game of Love che io personalmente porto in correlazione con Digital Love è la stessa cosa The Game of Love ovviamente è ironico il gioco dell'amore l'amore non è un gioco i Daft Punk lo sanno assolutamente e ancora una volta è in correlazione appunto con Digital Love di Discovery perché vuole farci capire il fondamento dell'amore il fondamento di questo sentimento il fondamento dell'attorezza di questo sentimento e noi non dobbiamo mai dimenticarci e di fatti questa seconda traccia è proprio una vera e propria ballad triste malinconica che ricorda quei tempi passati di Discovery quando i Daft Punk ancora credevano che era possibile creare un nuovo mondo terza traccia è Giorgio by Mordor che è una traccia praticamente che vuole ricordare il genio di Giorgio Mordor uno dei più grandi compositori che è stato anche ha praticamente aiutato a sfondare le porte del successo di Madonna ed è stato un personaggio del tutto italiano quindi questo orgoglio nostro e direi di ringraziare anche qui con un applauso silenzioso un applauso fatto di musica un applauso fatto di immagini il nostro Giorgio Mordor e ancora una volta i Daft Punk che si rifanno al passato perché il moderno è fatto dal passato il moderno ha come base il passato poi canzoni ancora importanti io citerei Touch la numero 7 con Paul Williams perché Touch perché Touch è il tocco e ascoltando la musica di questo di questa canzone proprio viene in mente vengono in mente delle immagini molto commoventi vengono proprio in mente delle immagini commoventi relative al tocco perché l'umanità è bella proprio di tocchi l'umanità si fa di percezioni sensibili si fa di tocchi di sensazioni si fa col confronto con gli altri col contatto con gli altri e noi non abbiamo mai assolutamente dimenticarci poi ancora molto importante la numero beh la 8 è la Get Lucky la traccia più famosa è una traccia molto felice molto allegra devo dire non è la mia preferita nell'album perché secondo me è la più bella è Touch insieme a The Game of Love perché sono due veramente quasi ballads che ci fanno entrare in questo mondo della sperimentazione che ci fanno entrare in questo mondo del contatto proprio con l'umanità Get Lucky è una canzone spensierata perché comunque la speranza non deve mai morire insomma è ancora possibile creare qualcosa è ancora possibile se tutti noi ci mettiamo a creare un nuovo mondo quindi Get Lucky fortuna dobbiamo avere anche un po' di fortuna non serve solo la speranza anche un po' di culo a volte è assolutamente utile però volevo parlarvi di Fragments of Time frammenti di tempo che è la numero 11 del nostro Random Accus Memories Fragments of Time frammenti di tempo è necessaria è necessaria parlare di questa canzone di cui molti ignorano l'importanza perché frammenti di tempo indica il passato l'importanza che noi dimentichiamo di dare al passato il passato che ormai passa come un frammento come è frammentata anche la nostra memoria perché è ovvio gli anni si susseguono si susseguono le immagini le vicende ma noi rimangono dei frammenti di questo passato e questi frammenti li vogliamo li dobbiamo necessariamente conservare perché sono dei frammenti dei frammenti necessari per costruirci le fondamenta per la nostra nuova casa che è la casa del moderno la casa della postmodernità del mondo 3.0 come la chiamo io e quindi voglio concludere l'analisi di random matches memories con la parola memories memoria ricordo e questo è un tema molto caro soprattutto da già praticamente da autori latini pensiamo insomma a Orazio non omnis non omnis non omnis moria l'ho detto che il latino mi fa sempre paura non omnis moria diceva diceva praticamente Orazio io voglio condividere con voi questo questo karma di Orazio che secondo me riflette la filosofia dei Daft Punk non omnis moria che indica proprio il fatto che tutti noi tutti noi moriamo tutti noi siamo polvere però non omnis moria vuol dire non tutto morirà cos'è che resterà resterà l'arte resteranno i frammenti di tempo che hanno un valore universale è proprio dal non omnis moria di Orazio che io mi collego all'esperienza di Ram Ram è un'esperienza a mio parere perfetta perché è veramente quell'esperienza universale gli altri per quanto il mio album preferito rimanga Discovery per quanto gli altri siano dei capolavori non sono a livello di Ram per questo motivo perché Ram è veramente universale è veramente un album che congiunge passato e presente in un'unica realtà le fonde insieme non omnis moria non tutto morirà quest'album rimarrà nella storia rimarrà universale perché è qualcosa da esprimere è l'espressione di questo contatto di questo album proprio il contatto fare il presente e il passato tra i frammenti di tempo e la tecnologia tac è qui che si crea il mondo 3.0 quindi un album della maturità dopo la disillusione i Duff Punk ci insegnano che c'è ancora speranza get luck abbiamo fortuna dai dobbiamo sperare in un mondo che può veramente rifondarsi e questo è l'importanza l'importanza fondamentale che Random Hatch's Memories ha sicuramente nella storia della musica volevo concludere quindi la monografia di Duff Punk dicendo che tutti i miei percorsi compresa questa monografia non saranno basati sull'analizzare praticamente le varie tracce tecnicamente ma io vi parlo delle tracce dei lavori che questi artisti hanno compiuto parlandovi del messaggio che a me hanno trasmesso e interpretandoli perché io ho interpretato completamente i Duff Punk che secondo me hanno voluto portare questo messaggio è un'interpretazione che può essere condivisa come può essere assolutamente criticata ricordo che è una mia opinione non è non l'hanno detto i Duff Punk le loro canzoni non dicono esattamente questo è una mia interpretazione però secondo me necessaria perché entrare nel mondo dei Duff Punk vuol dire anche entrare in questo mondo che per me è stato il mondo del cambiamento dell'accettare il diverso del comprendere nuove realtà e soprattutto di collegarmi al passato di collegarmi al passato per costruire un nuovo futuro e questo è il non omnismoriar perché veramente i Duff Punk non moriranno nella memoria di tutti noi che possa piacere o meno la loro musica dietro la loro musica vi sono dei concepts vi sono delle idee e dove c'è l'idea c'è l'artista dove c'è l'idea c'è la musica quindi io credo che questa sia la bellezza dei Duff Punk e l'innovazione che i Duff Punk non solo hanno portato il panorano francese perché sì sono francesi sì avranno anche la R Mosha però oltre la R Mosha hanno delle idee che Moshe non sono ma sono veramente salde forti e che veramente tutti noi dovremmo condividere e quindi questa era la monografia dei Duff Punk per me i geni indiscutibili della musica elettronica i geni che mi hanno aperto le porte verso il futuro perché la musica elettronica quella che piace a me quella che vuole esprimere un'idea quella che vuole portare avanti un concetto è proprio è proprio la musica elettronica che parte da Duff Punk è tutto il mio percorso non vi anticipo nulla non vi anticipo nulla però tutto il mio percorso sarà basato su queste strane sperimentazioni su questi strani mondi e quindi grazie ancora una volta a tutti quelli che condivideranno questo video che commenteranno che lo visualizzeranno è grazie soprattutto a chi spargerà la voce sul progetto dei Duff Punk perché questo poi che è lo scopo del mio progetto farvi conoscere nuovi artisti o per chi già li conosce come la maggior parte probabilmente la maggior parte di voi farvi probabilmente vedere Duff Punk sotto una luce sotto una luce completamente diversa perché ricordate che l'elettronica e questo lo dico perché come il mondo dell'horror anche l'elettronica ha tanti pergiudizi non è tunes tunes para para tunes non è il casino della musica della discoteca non è solo quello quello è un mondo dell'elettronica e il mondo delle discoteche il mondo del divertimento e vabbè ma dietro non ci può essere solo questo mondo ci deve essere anche il mondo del messaggio il mondo dell'idea il mondo dell'artista che si mette lì per voler esprimere una propria dimensione e devono convivere perché in fondo anche il divertimento è necessario si può essere tutti sempre intellettuali sempre pensierosi bisogna anche un po' divertirsi nel mondo dell'elettronica convivono queste due idee quella del divertimento quella dell'idea bisogna farla convivere non bisogna mai separarla non bisogna mai credere che la musica elettronica sia solo divertimento sia solo quella che mettono nelle discoteche perché la musica elettronica è fatta anche dall'idea fatta dalla visionarietà è fatta dall'ascolto l'ascolto in silenzio è fatta dall'immaginarsi nuovi mondi e i Daft Punk hanno proprio aperto la mente all'immaginazione e io vi lascio dandovi un consiglio stanotte quando volete immaginatevi questi mondi e credeteci in questi mondi perché i Daft Punk ci hanno creduto grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti